Effettueremo una verifica statica del fabbricato perché mi sembra strano che un fabbricato così fattiscente possa, anche se l'associazione è un'associazione riconosciuta e quindi iscritta al registro regionale, possa essere occupato da centinaia di persone durante il Ramadan, durante le preghiere. Molte di queste moschee si nascondono dietro associazioni di cultura islamica, però dobbiamo capire se sono associazioni vere o se dietro si nasconde effettivamente una moschea. Sicurezza in primis. Il sindaco Bitonci ha approfittato del sopralluogo nel presidio dei vigili urbani e all'Arcella per recarsi anche alla moschea, dove farà effettuare a breve una perizia per capire se tutto è realmente nella norma. La sicurezza è uno dei punti cardine per l'amministrazione, ecco perché il primo presidio è stato posizionato in una delle zone calde della città. Devo dire che la posizione è ottimale, siamo proprio a meno di 100 metri da Piazza Azzurra d'Italia, che è la piazza più frequentata dell'Arcella, quindi noi a ottobre inauguriamo la stazione della polizia con 50 agenti che saranno presenti sempre nel territorio.